E' iniziata anche all'ospedale San Donato di Arezzo la terapia con gli anticorpi monoclonali. I farmaci erano arrivati in Toscana alcuni giorni fa e il nosocomio cittadino è tra i 12 centri selezionati dalla regione per le prime somministrazioni. Circa una decina ad oggi i pazienti che stanno ricevendo questo tipo di cura. Siamo partiti da pochissimi giorni con le prime somministrazioni secondo un percorso definito da una procedura specifica che permette di individuare i pazienti elegibili per le loro caratteristiche cliniche direttamente nel territorio. Questi pazienti poi vengono valutati collegialmente dagli specialisti e possono accedere direttamente in ospedale per la somministrazione che resta in regime ambulatoriale ma deve essere effettuata comunque in ospedale. Quindi ci auguriamo che anche questo percorso si possa aggiungere a quelli già presenti per ridurre la pressione ospedaliera visto che questi pazienti dovrebbero migliorare le loro condizioni. Ecco, somministrazioni già effettuate, insomma se tendono ad essi miglioramenti? Certo, ce li attendiamo proprio per il fatto che le somministrazioni vengono effettuate in pazienti con pochi sintomi o asintomatici, quindi in una fase nella quale questa somministrazione potrebbe impedire un'evoluzione da poi determinare la necessità di ricovero in ospedale. Quindi la riduzione della pressione di ricovero ce l'aspettiamo anche grazie a questi percorsi.